Stai veramente postando dal campus. Non sono preoccupato. È come se volessi che la gupta ti facesse chiudere. Ragazzi, la scuola è ricominciata. E sapete che significa? Ricomincio anch'io. Venerdì sera incastrerò quattro dei maggiori trasgressori di Bayview. Diciamo solo che ho abbastanza merda per seppellirli. La tua ossessione per la vita degli altri è davvero patetica. Nessuno in questa scuola verrebbe scoperto se non fosse per me. Simon. È allergico. Non respira bene. Puoi aiutarci. La detective Wheeler ha un paio di domande. Non è stato un incidente? Credono che sia stato uno di noi. Senza Simon sarei tu la studentessa dell'anno. Quindi stai accusando me ora? Le conosco. Non conosco voi. Se dovessimo lavorare insieme ora... E perché dovremmo fidarci di te? Quindi voi ragazzi non avete segreti? Io ho troppe cose in gioco. Digli la verità. Non farebbe alcuna differenza. Tutti qui lo odiavano. Ma chi odiava anche noi? Qual è quel segreto per cui vale la pena uccidere? E che cosa stai facendo?